Siamo qui con il Presidente dell'Associazione Tartufai del Matese, Roberto Pascarella. Di cosa avete parlato durante il corso tenutosi presso l'ente del Parco del Matese? Sì, il 18 settembre presso la sede del Parco del Matese si è tenuto un corso svolto dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo riguardante la tutela e la salvaguardia del tartufo. Il tartufo può essere un protagonista per valorizzare anche il turismo nel Matese? Assolutamente sì, è uno dei punti principali del nostro progetto associativo e proprio ad ottobre si terrà insieme a Matese Discovery e Matese Adventure delle associazioni che promuovono il nostro territorio attraverso escursioni una passeggiata micologica in cui ci saranno degli esperti micologi e insieme ai nostri cani porteremo persone nei nostri boschi per far capire cosa significa cercare e cavare il tartufo. Ci spiega quali sono le varietà di tartufo presenti sul Matese? Allora la nostra zona è una zona molto attiva dal punto di vista della produzione del tartufo e nelle nostre aree per lo più si trova il tartufo mesentericum, tartufo aestivum, zone anche di tartufo bianco e per lo più sono queste le principali tipologie di tartufo presenti sul nostro territorio. Come si può promuovere questo prodotto? Allora la nostra associazione è un'associazione nata da qualche anno e diciamo conto una quarantina di tartufai attivi sul territorio e anche imprese di trasformazione e la nostra intenzione è proprio quella di promuovere il tartufo ovviamente tramite eventi tramite, faccio presente che proprio qualche settimana fa si è tenuto a San Potito San Itico un evento in cui abbiamo, diciamo la nostra intenzione è stata proprio quella di promuovere e far assaggiare e far conoscere il tartufo e nelle 18-19 e 20 novembre saremo presenti a Gussus a Napoli alla Fiera d'Oltremare in cui insieme alla Regione Campania rappresenteremo il tartufo del Matese in una mostra enogastronomica molto importante nella nostra Regione Campania. Da Piedimonte Matese è tutto, Miliana Lanzone per casertasera.it